ragazze siamo arrivati al centro commerciale sono ora per trovare già un posto veramente attenzione perché qua ti investo e dopo siamo andati allo stesso posto di prima abbiamo impiegato un'ora per trovare un parcheggio ma ce l'abbiamo fatta dai andiamo 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 a fare shopping passi di qua siamo di qua senta la macchina andiamo a comprare le scarpine cerchiamo un negozio cerchiamo delle scarpine belle da ginnastica le vuoi anche non da ginnastica va bene tipo da per uscire un pochino più eleganti ok ok siamo riflessi nello specchio dai che ci stiamo spostando siamo in coda in attesa di entrare in un negozio per comprare le scarpe nella speranza di trovare il tuo numero perché hai questa mezza misura che non si trova poi andiamo a far merenda ok io non sono graffiata prima eh? sono graffiata prima? no ieri ah ti sei graffiata che bellina che bel colore allora Vanessa è un 32 potrebbe andarti bene perché magari alla Nike vestilo diversamente sì infatti secondo me siamo sulla buona strada ci portiamo a venire prima eh abbiamo trovato ci portiamo a venire prima violetta vai Vane fai una bella passeggiata mamma vanno bene? sì sono contentissima mamma adesso Anastasia le troviamo a te ok? sì sei contenta? sì è meglio non guardare il numero infatti siamo andati a colpo sicuro senza guardare il numero abbiamo trovato la scarpa questo è un altro modello un altro colore fammi vedere bello anche queste vediamo che belle che belle bellissime mi piacciono troppo queste sì di più delle altre sì perché vedi a me piacciono i colori così doppi sì bene sei contenta? sì scarpa? ti sei meritata tre scarpe oggi? aspetta ma queste belle ma queste belle anche fosforescente mamma rosa lilla e colorate e colorate tocca a te 15 paio di scarpe abbiamo queste sono quelle di Vanessa più piccole che belle lilla un po' lilla anche queste guarda che belline ti piacciono Ani? sì proviamo a vedere se c'è il numero un 26 sì vai cucciola ora senti? facciamo due passetti? vai di là vai qui si corre non si cammina brava ora senti amore? va bene va bene? eh sì che va bene non ti cade? no adesso ne prendiamo un tetra certo ma quelle di Vanessa no e anche quella queste no con esse c'è solo un felcro ma il colore che non mica il modello ciabatte ma sono scarpe ciabatte? sì sono belline per andare in piscina io andavo andremo in piscina che meraviglia come ti stanno bene con le calze nere mamma mia ma che fatti sono fighe io come va signorina? bene bene ultimo paio anche per Anastasia vai fatti in giro stazia terzo paio vai Ani bianche ok questa non mi va di sicuro non mi va questo perché? no quando vorrà non mi va ti cade il piede poi gli acquisti di oggi quante scarpe direi che siamo a posto per i prossimi sei mesi ancora freddo? vale? sei scaldata? adesso andiamo a bere qualcosa e mangiare qualcosina quante cose abbiamo comprato? no quante che c'hai vendita? poi facciamo poi facciamo vedere tutto quello che abbiamo comprato va bene? perché alcune cose non le abbiamo mostrate cosa state facendo? un gioco un gioco sui tombini ok non andare mai sui tombini per favore cerca di evitarli Vanessa per favore lo sai che non voglio ah è piccolino va bene dai andiamo a mangiare qualcosa perché io sto morendo di fame e di sete non so voi io ho di fame e di sete di sete e di fame anche tu guarda guardate Anica lì vieni in spalle vieni in spalle e lascia guarda sei bambina appena nati quando ti danno il dito e non te lo so secondo me cade vieni in spalle vieni in spalle vabbè dai no guardate guarda le pa 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 ok 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 fallo scendere si ne abbiamo incontrato i nostri amici Raffaele ciao quanto tempo e e Antonio il fratello di Raffaele allora adesso ordiniamo qualcosa da bere da mangiare ok insieme ai nostri amici va bene eh Ani scegliamo la pezza qualcosa da bere da mangiare si 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 quindi tutto bene eh tu sei che raffaele cosa hai da mangiare ma te ho dei presti questa cosa è il tovagliolo non hai il tovagliolo adesso te lo trovo io ho visto tutti i cani prendiamo prendiamo e prendilo pure tu si vediamo ma te è veloce vieni Vanessa hai mangiato il dolce? che dolce è? un salame un cebolano che buono fa vedere Ani è buono? l'hai assaggiato? lo vuoi? lo vuoi assaggiare? no? Ani lo vuoi assaggiare? io non lo vuoi tanto lo vuoi? tanto lo vuoi tanto lo vuoi non lo vuole nessuno? bambini ascoltatemi un secondo adesso andiamo in un posto fantastico che non so se piace più a me che a voi io lo so in un negozio dimmi in un negozio grandissimo di giocattoli yeee lo sapevo ero più felice io di voi wow guardate qui cosa c'è? guarda Ani la lavatrice con il ferro vediamo qualcosa? non lo so vediamo cosa c'è non lo so adesso vediamo va bene? ti piace Bing? si prende la mano no guardate per piccolini che bello che troppa che bello chi è? si muove guarda Anastasia ha le orecchie che piacciono a te così tocchi le sue orecchie non le mie no no carino guarda che bello che bello che bello che bello guardate tutti i personaggi diamo un caso ma che forte guardate che bello che bello sono mia madre guardate la vita io lo so cosa c'è? posso poter portare uno di questi tipo come la faccio no voglio compiare lei posso? anzi lei posso? chi è lei Anna? no no una sirena eh sì la sirena Antonio guarda lì è impressionante cosa è che fa? guarda il mezzo guarda il mezzo ciao bene ciao siamo tornate questa giornata molto impegnativa vero? domani non ce ne andiamo domani andiamo a scuola perché è lunedì abbiamo comprato tantissime cosine vestitini tantissime no non abbiamo copiato niente in quel negozio pieno di giocattoli ma perché non c'erano dei miei giocattoli pensavo fosse più bello dai vero però abbiamo comprato tanti scarpe vestitini scarpe soprattutto scarpe io ho tre paglia dai eh poi le faremo vedere eh e tu due adesso finite di cenare che poi andiamo a fare la nanna ok? eh abbiamo giocato abbiamo incontrato gli amici bevuto un aperitivo ci siamo proprio divertiti vero? e abbiamo lavato la macchina è vero il nostro video finisce qui una beve e l'altra mangia sta bene mangio la sua beve buonissima sai perché è buona? perché è il sugo di una salsiccia di una salsiccia io sti secondo me strano non giochi mai giochi il telefono no mai va bene dai va bene ragazzi se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la canzone e lasciate un bel like a questo video e ragazzi prima di leggere quel che noi salutiamo se volete che vi salutiamo scrivetelo nei commenti allora quindi oggi salutiamo Marta Asia Cristina Gaia Greta e Rosa ciao ciao con la bocca io ne ho visto che anche le mani pulitissime e giochiamo per noi poi andiamo lì con i nostri amici ancora Raffaele ciao 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 ciao